Ci sono artisti che non appertengono solo alla città appunto che li racconta e che comunque li rappresenta, ma merita di essere esportati come patrimonio culturale in tutto il mondo, così come accade giustamente con Elena Bonelli che saluto. Buonasera Elena e che gentilmente mi ospita nella sua bella casa romana. Allora Elena, tanti anni sulla breccia partendo dal laboratorio di Gigi Proietti. Assolutamente sì. E poi insomma una lunga carriera che ti vede ancora protagonista, poi ne parleremo nel dettaglio, ma la prima domanda che ti voglio fare Elena, che ricordo hai di quegli anni con Gigi Proietti? Che comunque stiano segnato sotto un certo punto di vista. Sì perché indubbiamente il seme della romanità con lui lo si amplifica, lo si vive tutto, per cui insomma sono stati anni importanti. È stato importantissimo stare a contatto con Gigi che veramente è stato un grande maestro, un grande innovatore, perché comunque ha creato una scuola importante che realmente mancava e che infatti non sai quanto manchi sia dispiaciuto a tutti che questa scuola a un certo punto sia stata chiusa perché era veramente... Il suo laboratorio. Il suo laboratorio era veramente una grande novità per Roma ed era grande anche l'idea di creare proprio questo polo di artisti romani che ha dato dei frutti enormi. Certo, una fusione di grandi talenti dall'altro. Sì, veramente e pertanto sono stati importanti e quindi dopo aver fatto naturalmente tante altre cose fiction, teatro... Il debutto televisivo con i maestri Trapani e Falqui dall'altro, no? Sì esatto, che fu proprio in contemporanea, no? Mentre facevo il laboratorio mi ricordo che fui scritturata da Enzo Trapani per due di tutto. Un grande maestro della televisione. Esatto, e mi ricordo pure che venne Gigi e mi fece... Oh, l'allievo ha superato il maestro, è abbastanza invita la trasmissione tua. Così dissi, sì, vabbè, l'allievo ha superato il maestro, a te Gigi non ti potrà mai superare nessuno. Ed è così infatti. E pertanto insomma è stato un bellissimo inizio perché Proietti, Falqui, Trapani, io poi dopo ho continuato anche con Cingitore, Al Bagaglino, sebbene poi non fosse proprio la mia dimensione. La tua collagazione, esatto. Esatto. E poi ho continuato questa scelta, per carità, in mezzo a tante altre cose, ho fatto dei film, ho fatto anche un'opera prima, su di New York, che ancora amo da morire, che mi piace tantissimo. Un'artista poliedrica comunque Elena. Io sono poliedrica e a volte questo diciamo, ma fa tante cose. Mai doma. Mai doma. Ecco, questo è l'importante. Ecco, insomma, tu hai fatto veramente tante cose, ma bisogna anche dire che Elena Bonelli ha avuto anche il pregio, l'onore di essere insinita di un'importante notificenza dal Presidente Ciampi. Ne vogliamo parlare di questa cosa importantissima. Sì, eccoli là, tutti i miei premi, dal Presidente Ciampi, la targa... Perché tu hai fatto una cosa importante. Sì, ecco, infatti, fu una cosa meravigliosa. Magari non tutti lo sanno... È certo. ...che quel progetto meraviglioso di rilancio dell'inno nazionale... Il canto degli italiani. Il canto degli italiani nacque proprio da un concerto dove io ero al Quirinale per Capodanno... ...e vedi che nessuno cantava l'inno. Allora, il giorno dopo, ho scritto al Presidente Ciampi dicendo Presidente, grazie per l'invito, grazie per questa meravigliosa opportunità, ho notato questo, che nessuno canta l'inno. Perché non lo cantiamo più? Bene, io sono un artista che crede nella patria, nei tuoi simboli... E pertanto, guardi, mi metto a disposizione con la mia produzione, con i miei collaboratori e con la mia voce, quant'altro possa offrire a questo progetto, affinché l'inno nazionale ritorni a risuonare. Inauge, certo. O meglio, torni, perché poi in realtà non era mai stato... Abbandonato, certo, sì. Non era mai stato cantato. È vero, è vero. In Repubblica, in cui questo inno, forse perché magari dentro c'era questa parola balilla, si è sempre pensato che fosse un po'... Però dal senso dell'appartenenza. Il retaggio, sì, però molti pensavano che fosse un retaggio della destra, no? Sì, sì, è vero. Invece assolutamente no, perché parliamo del 1848, quindi insomma il fascismo era ben lungi dall'arrivare. Ecco, e quindi lui, Ciampi, mi diede carta bianca. Questa è la cosa a cui spesso ripenso, ho detto, ma pensa, io neanche lo conoscevo, no? Non l'ho mai conosciuto in realtà, personalmente. Lui ha conosciuto me tramite la mia voce, la mia operazione. Però c'è una grande emozione, non gli dico. Però è stato veramente un grande riconoscimento perché lui mi ha dato carta bianca, mi ha fatto chiamare dal suo capo lì della sua... Segreteria. La mia segreteria che era Gifuni all'epoca, da Pelufo che era il suo ufficio stampa e io ho iniziato a fare questo progetto. E tant'è che da quel momento in poi tutti quanti noi cantiamo ogni volta l'inno, no? Sia durante il 2 giugno ma anche durante gli eventi sportivi, tra l'altro. Non sono stata proprio la prima, la prima in assoluto. E poi un altro riconoscimento di parole a cantare l'inno in uno stadio, in uno stadio di calcio. Beh, fantastico. Italiano ma poi anche in Corea. Cioè non era mai successo che un'artista italiana fosse chiamata... Perché tu hai presentato l'Expo tra l'altro, sei andata per l'Expo. Sì. Con una grande sorpresa. Tant'è che Trabattoni quando mi vide là mi dice ma signora ma anche qui lei è... Trabattoni mi hanno chiamato e sono venuta. E quindi... Quindi tanto onore veramente e poi un riconoscimento anche dal Presidente Napolitano. E dopo sì, proprio perché io comunque ho portato avanti questa cosa, un milione e mezzo di cd distribuiti col Corriere della Sera, distribuiti nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri. Per cui ho portato avanti questa operazione fino a quando poi non hanno cominciato tanti altri artisti dopo di me a cantarlo. E questo è stato un grande bel risultato, un grande successo di questa operazione. Operazione. Che è in piedi, sì. Questa grande intuizione Elena, questa grande intuizione. Sì, sì, a me piace tanto andare laddove manca qualcosa. Che poi è lo stesso discorso che ho fatto sulla Cassione Romana. Hai girato tanti palcoscenici in tutto il mondo. Budapest, New York, veramente qui questa stanza è tappezzata di foto, di immagini che ritraggono Elena, insomma nel suo errare nel mondo. C'è tutto, Giappone, America, New York, Budapest, c'è proprio di tutto il Campidoglio. Fino a Kabul si è arrivata, fino a Kabul. C'è anche Kabul, ecco c'è anche Kabul. Grazie all'ONU. Grazie all'ONU, grazie al Ministero della Difesa, grazie all'Ambasciatore Giorgi, che mi volle in questo si chiama così teatro di guerra, perché c'erano tutti i contingenti dei vari paesi. Come no? Che ho fatto il 25 dicembre. Dopo i talibani, dopo l'avvento dei talibani, no? Giusto? 2002 mi pare. Sì, era appena finita la guerra, c'erano ancora le mine sparse dappertutto, però feci questo bel concerto per la pace, ovviamente, che fu memorabile. E quindi veniamo ai giorni nostri, perché? Perché Elena ci regala una sorpresa. La prima, ve la faccio vedere, è questo splendido libro che si intitola La Canzone Romana, edito da New Comp Editori, dove tu ti sei cimentata in veste di scrittrice. Beh, questo è il terzo libro. Il terzo libro? No, no, certo. È il terzo libro che scrivo, il primo è stato Dallo Stornello a Rep, il secondo è stata una pubblicazione per Tor Vergata che mi è stata richiesta e che sarà usata come libro di testo per gli studenti, questa è una cosa molto bella. Che tu sei anche una docente, dico bene? Beh, io, guarda, nonostante, vedi, la mia laurea è là, attaccata, però non l'avevo mai usata, quindi mi sono laureata alla Sapienza, con il grande Denardis e Agostino Lombardo, però poi l'avevo messa attaccata al muro, e invece... Adesso gli do un po' di polvere. Grazie alla dottoressa Rosanna Buono che mi ha coinvolto in... oppure grazie alla Luis che mi ha fatto fare dei corsi elettivi, sono diventata docente della canzone romana. Bene. E ti dico che non sai quanto apprezzano i ragazzi questo argomento, quanto lo seguono e come ci si appassionano. Ecco Elena, che ci... cosa... in questo libro cosa racconti esattamente? Racconto 150 anni di Roma Capitale che quest'anno fa il compleanno attraverso le canzoni, attraverso gli artisti che le hanno scritte e ogni canzone... Partendo da Romulo Balsani? Partendo addirittura prima da Fregoli, da Lombardo Fregoli, che è stato il cantante della prima canzone che ha vinto l'audizione di San Giovanni, e arrivando fino ad oggi, ad ultimo, da Achille Lauro a Mandarino... Quindi la nuova generazione... La nuova generazione... La nuova generazione, bravissima, e pertanto ogni canzone scopre uno scenario, no? Quindi mi è stato detto da chi ha letto questo libro, dice guarda, è veramente piacevole, si legge in un soffio e con grande leggerezza, perché si parla di aneddoti, si parla di storie, storielle, ricordi, artisti, interviste, c'è un po' di tutto e naturalmente chi lo legge si fa un quadro storico, sociale, culturale della capitale attraverso le canzoni. Ecco tu hai fatto una cernita, diciamo, delle migliori canzoni, no? Sì. Quindi partendo appunto da lontano fino appunto, come tu hai detto, da Achille Lauro e ultimo appunto. Ecco, la domanda che io ti faccio, se dovessi, tra tutte queste canzoni che tu hai elencato con molta oculatezza, se dovessi scegliere una? Quale scegli? La mia, la bella donna. La bella donna. L'ho scritta io, me l'ha musicata Mariella Nava. È splendida artista. Molto, molto bella e quando la canto in palcoscenico piace tanto. Ti vengono i brividi, ancora ti vengono i brividi. Sì, la gente si emoziona, questo mi piace molto. E questa è la prima sorpresa appunto di cui ci voleva parlare Elena, questo splendido libro che consiglio a tutti, oltretutto noi lo stiamo leggendo a quarta parete e faremo anche la ricca recensione che è Elena. Ah, bellissimo. E poi c'è un altro evento importante che, insomma, voglio dire, oggi siamo il primo dicembre, domenica 5 dicembre al Teatro Ghione, quindi a Via delle Fornaci, Elena sarà in palcoscenico con un tuo spettacolo che è già presentato in realtà al Teatro Vittoria qualche non molto tempo fa e chi si chiama Roma, io ti racconto e canto. Esatto, sì, è stato presentato, ha avuto veramente un bellissimo successo. Prima che succedesse Pandemonio? Diciamo a metà, a metà, sì, a cavallo. Esatto, e quindi vale la pena proprio riprendere, mi è stato chiesto dal Teatro Ghione, lo faccio molto volentieri perché, se vogliamo, è un po', adesso che è uscito il libro, è anche un po', come dire, la versione live di questo libro perché Roma, io ti racconto e canto, narra proprio però in modo recitato, in modo divertente, con le battute, insomma, mi vedrete dal vivo, Sì, 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 con le battute, mi vedrete cantare le canzoni, tra quelle appunto che ho citato nel libro della canzone romana, recitare brani storici della letteratura romana e anche raccontare molto, no? Per cui, insomma, diciamo, veramente la posso definire una versione live. Quindi è un compendio, possiamo dirlo così. Assolutamente. Bene, allora, Elena, io intanto ti ringrazio di cuore, rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, libro, questo libro, la canzone romana, terzo libro di Elena Bonelli e poi soprattutto dovete venire in massa, possiamo dirlo? Beh, venite perché io sono certa che non se ne vediranno. Lo spettacolo è bellissimo, io l'ho visto assolutamente da vedere, insomma, comunque è un viaggio lungo 150 anni. Sì, ma che dura solamente un'ora e 20 minuti. 20 minuti, bravissima. E allora, appuntamento al Ghione, ore 17? Ore 18, domenica 5 dicembre, alle ore 18, vi aspetto tutti al Teatro Ghione, proprio sotto al cupolone, che è una meraviglia. Allora, grazie Elena Bonelli, grazie a te, in bocca al lupo, naturalmente buon teatro e dagli Roma sempre. Sempre, Roma ti amo. Arrivederci. Grazie a tutti.